Amici di Calcio News 24, mettetevi comodi, oggi andiamo alla scoperta degli ultimi precedenti tra Napoli e Torino. Grande l'entusiasmo al Maradona. Il Napoli è in testa alla classifica sia in campionato che in Champions League. Importante l'ultimo successo sul Milan a San Siro, anche perché l'ha determinato Simeone, un giocatore partito dalla panchina. Il Torino invece è reduce dalla beffa in casa col Sassuolo, dove la sconfitta è maturata all'ultima azione. Juric deve evitare cali di tensione. Già l'anno scorso i Granata sono stati coloro che hanno perso più punti nei minuti finali di partita. Il totale delle gare è 68. 29 vittorie del Napoli, 31 pareggi, 8 vittorie a Granata. Nel 2021-2022 l'ultima vittoria partenopea. 1-0 in rete Osimen. Nel primo tempo Insigne ha sbagliato un calcio di rigore. Nella stagione 2021 invece l'ultimo pareggio. 1-1 in rete vanno Izzo e appunto Insigne. Il Napoli si salva solo nei minuti di recupero con un gol capolavoro del suo capitano. Dobbiamo risalire alla stagione 2008-2009 per vedere l'ultima vittoria del Torino. 1-2. I marcatori della sfida sono Pia, Bianchi e Rosina. Sul finire del campionato il Toro conquista la sua prima vittoria esterna al San Paolo. Memorabile la sfida del 2019-2020. 2-1. Il Napoli riesce a vincere con le reti di due difensori, Manolas e Di Lorenzo. Di Edera il gol Granata. Scarica l'app di Calcio News 24 e iscriviti al nostro canale YouTube.